Ciao a tutti ragazzi e ben trovati qui da Malta per il secondo giorno di gara del Poker Live Adventure come vedete sala abbastanza aggrimita anche se come sicuramente avrete già letto dal forum sono solamente 130 per ora i giocatori che hanno deciso di iscriversi a questo D1B solamente per modo di dire visto che comunque è un numero di tutto rispetto certo è che la controtendenza rispetto al D1A che di solito è meno frequentato rispetto al secondo giorno di gara si fa sentire con appunto un calo di circa 80 giocatori ma le registrazioni tardive sono ancora aperte quindi non è detto che comunque non si raggiunga una cifra ragguardevole anche per quanto riguarda questo D1B noi ci diamo appuntamento come al solito per gli aggiornamenti della sala con video e reportage per iscritto sul forum rimanete con noi sempre Poker Italia Web sempre grande Poker ciao